Giovedì 28 gennaio, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino. Occhio ai giornali, abbiamo già preparato le pagine dal Carlino e dal Corriere Adriatico, quindi restate con noi, c'è anche una notizia dell'ultima ora della notte, forse qualcuno l'ha anche sentita, ma prima andiamo a vedere il santo del giorno. E oggi è un santo importante per la Chiesa, Santo Maso d'Aquino. Il sole è sorto, anzi sorgerà alle 7.32 e tramonterà alle 17.15. Uno sguardo anche al tempo con il bollettino della protezione civile delle Marche, per oggi previsto cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, poi nel corso del pomeriggio un po' di nuvole, temperature in lieve aumento, venti sulla fascia costiera che ruoterà temporaneamente da sud-est, attenzione al mattino, gelate diffuse nei fondovalle e nelle conche per effetto dell'irraggiamento notturno. abbiamo una luna piena che insomma già di per sé. Allora, per la giornata di domani, venerdì 29, questo è il quadro animato delle previsioni per domani, abbiamo pioggia sin dalla tarda mattinata con fenomeni che potranno casualmente interessare anche la fascia costiera, in diffusione ed intensificazione durante la prima parte del pomeriggio, sia in montagna sia sulla costa. Abbiamo anche le temperature minime in aumento, anche marcato, le massime invece senza amarezione di rilievo. Avremo anche burrasca forte nei settori interni, quindi venti che raggiungeranno forte intensità, anche nel corso del pomeriggio, un po' dappertutto. Per quanto riguarda invece la giornata di sabato, il fine settimana, avremo al mattino un cielo poco nuvoloso, con la pioggia che continuerà durante la notte tra venerdì e sabato, così come tra sabato e domenica, precipitazioni in particolare sui settori settentrionali, quindi nella provincia pesarese. E poi dopo domenica. Domenica e lunedì saranno caratterizzate da deboli condizioni di mal tempo. Ma vedremo. Allora, intanto dobbiamo segnalare due scosse di terremoto che si sono verificate nella costa marchigiana fermana. La fotografia che adesso vi facciamo vedere vi indica esattamente dove c'è stato questo, come vedete, allargo di fronte alle coste di Civitanova, insomma, a Potenza, Porto Potenza, Potenza Piscera, Porto Recanate, insomma, siamo lì, Costa Fermana, così viene indicato dall'Ingivu, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Allora, abbiamo avuto due scosse, dicevo, la prima di 3.5 alle ore 22.46 di ieri, profondità 8 km. La seconda, poche ore fa, alle 2.21 di 3.1 a 9 km di profondità, più o meno sempre sulla stessa zona, quindi nel corso della notte. Ecco, queste sono le notizie, la notizia dell'ultima ora. Adesso andiamo a leggere i titoli delle notizie più importanti sui quotidiani. La fotonotizia del resto del Carlino è per un'attività, un barista che ha deciso, vista l'impossibilità di lavorare, di chiudere il proprio locale. E lo fa mostrandosi davanti all'obiettivo del giornale. Costretto a chiudere un articolo che troverete nelle pagine interne, bar abbassa le saracinesche, grazie al governo e tanto di cartello attaccato alla vetrata e ovviamente lo sguardo piuttosto arrabbiato di questo povero commerciante che insomma non ha potuto far altro che chiudere e abbassare la saracinesca. Poi derby della cultura e guerra politica, capitale 2024, la regione sostiene Ascoli e quindi Pesero si arrabbia. Vimini, il vice sindaco di Pesero, dice vogliono ostacolarci. Acquaroli, noi non siamo, dice contro Pesero. E poi c'è il risponso per quanto riguarda la morte del personal trainer, dell'autopsia, abbiate pazienza, dell'autopsia stroncato da patologia cardiaca o saranno effettuati ulteriori accertamenti. Comunque, e poi le medaglie in prefettura, le otto storie dei deportati nei lager. Il governatore tira fuori dal cilindro invece il giallo forzato. Che cos'è il giallo forzato? Sapete, domani è il giorno della verità per la nostra regione, domani è venerdì, quindi si saprà se torneremo in zona giallo oppure no. E per convincere il governo centrale, Acquaroli ha deciso in qualche modo di rafforzare un po' la sua tesi con un dossier, un dossier tirando fuori insomma un giallo forzato, nel senso che nel fine settimana la regione è disponibile eventualmente a intervenire laddove potrebbero esserci problemi di assembramento, eccetera, eccetera. Quindi una sorta di aiutino questo giallo forzato. Poi oggi partono invece a Pesaro i tamponi, i tamponi nelle scuole, via allo screening, che questa notizia trova spazio ovviamente nella prima pagina del resto del Carlino e poi addio a Guglielmo Fazzi, un'altra vittima del virus, fu pioniere del mobile. Mentre sotto la VL Card donata a tutti i dipendenti, Luciano Amadori presidente del Consorzio e poi i Genesis a Pesaro, ecco gli scatti inediti, le immagini fatte nel 1972 e adesso il Corriere Adriatico. A centropagina cultura Pesaro impallinata, questa è la domanda che si pone il giornale a proposito di questa ipotesi, di questa idea, di questo forse pregiudizio che si sono fatti a Pesaro sulla regione e sul fatto che Ancona preferirebbe forse Ascoli a diventare città della cultura fra qualche anno. Insomma di questo se ne discute in queste ore. Poi zona gialla senza esagerare, parametri in calo per i contagi, Roma pronta a promuovere le marche fuori dall'arancione, ieri 17 vittime però. Aquarolic Auto, vogliamo ossigeno per le attività, se necessario saremo pronti anche a restrizioni nel fine settimana. E poi nelle notizie in breve, sempre dalla prima, spostiamo la questura a Villa Marina, sede unica e localizzazione perfetta. Poi trasporti scolastici, Adriabus conferma l'assetto già definitivo, dicono e poi le scelte dei ragazzi sulla nuova scuola, quelli che dalle scuole medie devono passare alle superiori, quindi che hanno dovuto scegliere in qualche modo, i licei restano in testa, professionali ormai de modè. All'università invece la didattica rimane ancora a distanza, il rettore Calcagnini a Urbino segnala le attività in presenza, ma il rapporto degli studenti con Urbino è stretto. E poi ancora eseguita l'autopsia, il trainer Andrea tradito dal cuore, ma ci sono ancora dubbi sul digiuno. Curve in flessione, Marche in marcia verso la zona gialla, titolo del Corriere Adriatico, contagi giù in una settimana del 13%, i ricoveri in rianimazione del 14%, ma il dato dei decessi è drammatico, purtroppo anche ieri sono morte 17 persone nelle ultime 24 ore per varie patologie, tutti avevano patologie progresse, lo ricordiamo, però chiaramente come diciamo sempre il Covid ha dato una mano. Il totale arriva a 1926. Le ultime indiscrezioni danno per probabile comunque il cambio di colore, dunque si dovrebbe tornare in zona arancione. Ieri Ancona è stata la provincia con più casi di contagi, 177. Il Carlino, le Marche a rischio moderato, titolo a pagina 5, ecco i numeri della speranza. L'epidemiologo della Regione, Marco Pompili, analizza i dati, l'RT sarà sotto 1, l'incidenza dunque diminuisce, calano anche i casi più gravi. Superato il picco dal 4 al 10 gennaio abbiamo iniziato a scendere. La situazione è migliorata, i ricoveri in terapia intensiva sono passati da 83 a 73. Una zona gialla rafforzata per la Regione, dice Francesco Acquaroli, è la richiesta che il Governatore ha fatto al Ministro Speranza in base agli ultimi dati. RT da molto ormai sotto l'uno, saremo noi a provvedere a restrizioni, ad esempio nei fini settimana. E domani, come dicevo, sarà il giorno della verità. Questa notizia che trova spazio a pagina 5 del Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, la leggiamo in modo approfondito. cercando di non perdere le staffe, cercando di non farsi prendere dalla rabbia. Perché a leggere queste parole, a leggere questa uscita oggi di Ricciardi, insomma, fa venire piuttosto l'agitazione e il nervoso. Però, con calma, leggiamo quello che c'è scritto. Allora, pressing del Ministero. Sì ai monoclonali. Che cosa si dice dei monoclonali? di una cosa che già sapevamo benissimo. E che però, guarda caso, forse perché si dovevano privilegiare i vaccini, forse. Però adesso viene fuori che siccome i vaccini sono in ritardo, l'Unione Europea ha fatto un disastro sulla prenotazione, sulla diffusione, eccetera, eccetera. Insomma, adesso che ci ritroviamo veramente con le spalle al muro, guarda caso, oggi i monoclonali diventano, che cosa? Leggiamo insieme, un'arma potentissima. Saranno la svolta. Di questa cosa se ne sapeva già da tantissimo tempo e abbiamo continuato a perdere tempo, privilegiando, che cosa? I vaccini. Quando parliamo di vaccini, immaginatevi il dollaro davanti a voi. Andiamo con ordine. Andiamo dentro e leggiamo che cosa dice oggi Walter Ricciatti, consulente del Ministro della Salute, che cosa fa? Rompe gli indugi. Ora, dice, siamo ai templi supplementari di una partita contro il Covid, che in Italia continua a causare mezzo migliaio di vittime ogni giorno. Avete capito bene? Mezzo migliaio di vittime ogni giorno. E il professore, che cosa dice? Lancia un appello che arriva come una scossa, ma pianta. Non mi sembra questo il momento di perdere tempo per una procedura sicuramente più lunga, quando Germania, Stati Uniti e Canada li hanno già i monoclonali. Dice, aludendo agli accertamenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, affinché sia sbloccata con un atto appropriato la distribuzione degli antivirali che già produciamo intorno a Roma. Capite? Cioè, noi li produciamo intorno a Roma e, pensate un po', li esportiamo persino in Ungheria, ma che lesiniamo ai nostri ospedali. I nostri ospedali non li hanno, oppure li hanno con il contagocce, però li esportiamo dove? Anche fuori, appunto. E nel momento in cui, ecco qua la chiave di lettura che io ogni giorno spero di stimolare, anche a voi telespettatori a casa, senza leggere in modo passivo, ma cercando di ragionare. Allora, nel momento in cui i vaccini arrivano con il contagocce e siamo messi in ginocchio dai lockdown, potrebbe essere questa la soluzione in grado di imbrigliare gli effetti perversi della pandemia da coronavirus. Però, da mesi, si parla degli anticorpi monoclonali, gli stessi fabbricati da Eli, Lili, eccetera, eccetera, che l'America di Trump, cioè gli stessi monoclonali, che l'America di Trump ha rimborsato gratuitamente senza lasciare nessuno indietro. Ieri l'altro, sono arrivati gli esiti dello studio Blaze 1, che documenta come questi salvavita, si chiamano così, questi li chiama così, salvavita, abbattono la carica virale e accelerano la remissione dei sintomi. Avete capito? Avete capito di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di monoclonali, va bene? Monoclonali, di cui sapevamo benissimo tutti quanti l'efficacia che alcuni paesi stanno utilizzando. Noi in Italia li produciamo, va bene, ma non li usiamo. Oppure quei pochi ospedali che li usano, proprio li usano con il contagocce. Ora, la domanda è, ma questi benedetti governanti, scienziati, comitate e quant'altro, o giocano a battaglia navale, o giocano a risico, o giocano, fanno finta di fare le cose, perché altrimenti questo è uno scandalo. È uno scandalo e nessuno dice nulla. È uno scandalo. I monoclonali funzionano, l'abbiamo detto, adesso siccome siamo con le gambe all'aria perché i vaccini non arrivano, perché i vaccini non sono quelli che si aspettavano, adesso, guarda caso, tutti a chiedere i monoclonali. Mentre questi monoclonali noi li produciamo già da un po', e ce li abbiamo già da un po'. Un anticorpo, chiudiamo, perché altrimenti finiamo per fare polemiche. Allora, un anticorpo monoclonale somministrato in forma precoce, ad esempio entro sei giorni dalla comparsa dei sintomi dell'infezione, può salvare i degenti delle RSA, i pazienti anziani esposti al rischio, assicurano gli esperti. Ci sono antivirali che l'Europa ha acquistato a pacchi e che andrebbero somministrati tempestivamente per ricavare maggiori benefici. Forse è venuto il momento di tirarli fuori dai cassetti. Allora. Intanto noi andiamo avanti con la lista dei morti. Addio a Mino Fazzi, storico sportivo, aveva 89 anni, ha aperto 40 anni fa il negozio Fazzi Arreda sulla Statale Adriatica, per decenni è stato presidente dell'Urbinelli. L'ultimo saluto è previsto per mercoledì 3 febbraio a Pozzo Alto alle ore 10. Intanto c'è preoccupazione nella parrocchia di San Francesco per la pandemia che ha colpito tre dei frati della comunità. Uno di loro è padre Marzio Calletti, 63 anni, che è stato ricoverato in ospedale per problemi polmonari. Il sacerdote era stato colpito da Covid nei giorni scorsi, insieme ad altri confratelli. Le sue condizioni sono sempre state sotto controllo, ma martedì per prevenire eventuali gravi problematiche si è reso necessario il ricovero al San Salvatore, preceduto da esami approfonditi a Fossombrone. Ora, padre Marzio ha cercato di evitare fino all'ultimo il ricovero per non togliere posti agli altri, ma è stato tranquillizzato dai sanitari. Non avrebbe tolto il posto a nessuno, visto che all'ospedale la situazione è sotto controllo. Mentre sotto l'Ant piange Sabino Palma, anche lui aveva contratto il virus. La fondazione Ant di Pesaro piange il suo delegato Sabino Palma, volontario instancabile. Palma, 73 anni, è venuto a mancare l'altro ieri. E queste sono le notizie che troverete sempre sul resto del carlino. Intanto sui vaccini, vaccini ed amministrativi e parenti, i medici, priorità ribaltate. L'ordine si è riunito ieri sera per stabilire una linea dopo le segnalazioni di molti camici bianchi. Crediamo che i colleghi liberi, professionisti, non debbano essere lasciati indietro. Sui banchi con la mascherina, una rafica di lettere e di fide. Questo è l'argomento che troverete sul Corriere di questa mattina. Sempre più genitori scrivono ai presidi e avvocati segnalando malori, paure e rimproveri ai ragazzini. Pensate anche loro, insomma, come devono andare a scuola. Mio figlio lunedì è tornato al liceo trovando vigile e polizia. Era intimorito. E poi l'altra pagina del Carlino, tamponi a scuola questa mattina si comincia. Vedrete che i ragazzi faranno la loro parte. Il via alle 8.30 al Mengaroni, poi al Cecchi e al Campus. Poi nel pomeriggio dalle 14.30 toccherà ai professori e al personale ATA. Angelica Panzieri questa mattina sul giornale pubblica, anzi il giornale pubblica una notizia curata da Angelica Panzieri che riguarda una protesta. La protesta di Maurizio Ralli che ha un bar che ha deciso però di chiudere per protesta. tira giù la saracinesca del suo locale in via Contramine dove ha anche una nota pizzeria. E grazie al governo italiano e a Giuseppe Conte io chiudo il bar. Non lascia spazio alle interpretazioni questo cartello noto pizzaiolo peserese che ha voluto appendere al di fuori del suo locale nel pieno centro storico di Pesero. Qui oltre alla sua pizzeria da Mauri l'uomo gestiva anche un bar. ma per via del Covid con tutte le restrizioni imposte dai vari DPCM sono stato costretto a chiudere. Asporto, parliamo sempre di problemi collegati ai vari DPCM, alle varie azioni intraprese dal governo per arginare i contagi. Asporto e delivery sono solo fino alle 22 garantito appena il 10% del fatturato. Vedovi e Diremigio dicono altri 18 giorni così e sarà una debacle. Non serve neanche protestare. Dunque ormai possiamo dire che molti di questi ristoratori, di questi baristi hanno i giorni contati. Qui addirittura si cita un numero, 18 giorni e poi sarà la fine. Molti saranno costretti a chiudere. Noi ormai lo diciamo così, senza forse ci abbiamo anche fatto l'abitudine, molti chiuderanno. Ma dietro dobbiamo pensare che dietro la parola chiusura ci sono famiglie, ci sono persone che non hanno un'entrata, un'entrata economica. C'è disperazione, c'è anche rabbia. C'è tutto insomma. Andrea stroncato da un'aritmia fulminia. Questa è l'altra notizia che ha lasciato sgomenti un intero paese e tanti amici che hanno conosciuto questo uomo di 48 anni. Andrea è stato stroncato da un problema al cuore. L'autopsia accerta una patologia cardiaco di cui soffriva da tempo. La Procura ha voluto però appurare le cause della morte del personal trainer di 48 anni rinvenuto nella sua casa di Ronco Sambaccio. Aveva allarmato la notizia che l'uomo vegano digiunava da almeno tre giorni. Però è interessante questo articolo invece di Simona Spagnoli questa mattina, questo approfondimento, questo parere che è giusto e bene fare in questi casi perché altrimenti la notizia di per sé potrebbe generare solo confusione e paura. Ma in realtà è bene poi pubblicare anche il parere di, in questo caso, del nutrizionista, il dottor Davide Gerlando Sghembri che è medico, mi pare, all'ospedale di Senigallia se non ricordo male, sì, all'ospedale Marche Nord e oggi nel reparto oncologia dell'ospedale di Senigallia che dice cose molto interessanti. Dice cose interessanti soprattutto per chi pensa di voler fare da solo diete e quant'altro oppure affidandosi semplicemente al dottor Google, dottor Google che ormai al quale ci rivolgiamo tutti quanti ma che spesso fa più danni che altro. Il dottor Google lasciamolo perdere per quanto riguarda la salute, invece può essere utile per tante altre cose, ma sulla salute è sempre bene affidarsi a degli esperti, a delle persone che conoscono la tua storia, che ti possono vedere negli occhi. Il dottor Google ti butta tutto quello che vuoi e il contrario di tutto quello che vuoi, quindi lasciamo stare. E comunque vi lascio, perché non abbiamo tempo, vi lascio questa pagina del Carlino da leggere per chi vuole approfondire. Mentre sulle questioni diciamo un po' più politiche c'è la storia di questa corsa capitale della cultura 2024 che vede Ascoli e Pesaro contrapporsi, ma che Ascoli probabilmente con qualche appoggio in più, che è quello della Regione. Appoggio ad Ascoli ma non a Pesaro, la mossa della Regione è un caso. Dopo la candidatura della città di Rossini, martedì quella Picena con l'endorsement di Palazzo Raffaello. Vitri, Michela Vitri del PD dice guerra tra territori, Acquaroli si sarà sbagliato. Belloni di Fratelli d'Italia dice invece basta finti incidenti diplomatici. Poi ci sono due, il botta e risposta, che sono i botta e risposta di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che dice niente braccio di ferro ci siamo mossi da tempo, abbiamo i numeri giusti e poi il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini che parla anche a nome di Ricci una sfida marchigiana, però iniziamo a pensare che vogliano ostacolarci. Mentre sui primi 100 giorni del governatore Acquaroli si parla di questa rivoluzione a Palazzo Raffaello, dirigenti e cambio di poltrone. La Giraldi ancora in bilico, si cerca un nuovo esperto in enti locali e segreteria della Giunta, poi non solo Covid nel bilancio dei primi tre mesi in Regione, ma si parla anche del terremoto, la ricostruzione ha accelerato, dice Acquaroli. Tornando a Pesaro, a Villa Marina mettiamo la questura, è una proposta del segretario provinciale del SILP Pierpaolo Fega, del sindacato di polizia, la posizione è perfetta, dice e finalmente sarebbe una sede unica. Le aste sono andate a vuoto, sappiamo, su Villa Marina e quindi il prezzo è abbastanza abbordabile, appetibile. La pagina di Palazzo del Corriere invece. Cultura retromarcia del sindaco, con me si attiveranno sinergie. Il consigliere Stefano Marchegiani, che ha già ricoperto il ruolo di assessore con delega appunto alla cultura, parla di queste sue nuove deleghe ricevute per valorizzare il patrimonio storico. Dunque il sindaco Massimo Serri ha riaffidato come consigliere le deleghe al patrimonio storico, quindi il teatro romano, la fabbrica del Carnevale, la zona archeologica che sta sotto Piazza 20 Settembre e quindi insomma gli ha ridato insomma quello che gli era stato tolto come assessore nella giunta Serri. Poi di taglio basso, sempre sulla pagina di Fano, la morte di Andrea Bindi, morte avvenuta qualche giorno fa. Anche qui il titolo per una patologia cardiaca eseguita l'autopsia è ancora da accertare un'eventuale correlazione però con il digiuno. Quindi queste sono tutte cose che ancora devono essere chiarite bene. Però certamente se leggerete poi la notizia dell'approfondimento con il nutrizionista, chiaramente chi ha problemi al cuore non può fare digiuni così prolungati per tante ragioni. Quindi bisogna stare molto attenti quando si fanno queste cose. Trave, il quartiere della Trave sotto sopra ma le novità non sono finite. Parliamo di viabilità, viabilità trasformata, partita la sperimentazione del quartiere, comprese le vie della Fornace e Monte Nerone, poi arriveranno zone 30, strettoie e anche rotatorie. Andiamo ancora avanti. Sulla Fano Urbino così stanno le cose. Dalla pagina di Fano Renzo Rovinelli, ex responsabile regionale del progetto per la valorizzazione, fa chiarezza sulle varie ipotesi e poi su quelle che sono le proposte. Per quanto riguarda invece la prossima stagione estiva, quella balneare, qualcuno ha detto, il professor Grisanti, Grisanti ha detto niente spiaggia quest'estate, come al solito, vabbè, lasciamo stare. Il virologo fa infuriare i bagnini. Giuliani dice i veri problemi sono la Bolkestein e l'erosione della costa, lasciamo perdere quest'estate il coronavirus. Casello invece. La Lega di Fano preme, se ritente il recupero. Dopo il no del altare i consiglieri presentano una mozione con cui puntano a ottenere il voto della maggioranza. Il sindaco dice la Regione si attivi con il MIT. E poi nella mensa di San Paterniano di Fano il Covid ha portato via gli anziani e ci sono adesso solo badanti all'opera Padre Pio. La pandemia ha trasformato faccia, abitudini e aumentato le necessità al refettorio. Solo l'asporto mentre è stato sospeso il dormitorio. No alle barriere invece fonoassorbenti. Le Marche sono solo contro RFI. Aguzzi ha negato il proprio consenso in videoconferenza. Interrogazione del Movimento 5 Stelle. Dalla Valmetauro, area archeologica abbandonata. C'è tensione per la segnalazione. Siamo a Fossombrone. La minoranza lamenta il degrado a calmazzo di recinto, funerario e copertura. Poi vi ricordo, e lo fa anche il giornale questa mattina il Corriere Adriatico, oggi alle 15, nella parrocchia di Santa Croce a Calcinelli, e l'addio a Don Giuseppe in diretta su Fano TV. Dalla Valcesano lo zio sarà operato alla Tibia, poi verrà trasferito a Pesaro. Il nipote di Mauro Andreini spiega gli sviluppi dopo l'infortunio sul lavoro in Sicilia. Il tecnico meccanico di Mondolfo ha contratto il Covid senza sintomi dopo il ricovero, mentre allo screening di Pergola il 26% della popolazione. Da Urbino invece le lezioni per ora restano a distanza, ma l'università è una comunità coese. Il rettore Calcagnini segnale il rapporto stretto tra gli studenti e la città di Urbino esaltata da Boccom e luogo dello spirito. E poi Gambini che dice ora avanti con il piano di chiusura della discarica. Il sindaco sul pronunciamento del Consiglio di Stato contro il ricorso dei cittadini. A Senigallia allarme rosso, al pronto soccorso mancano medici, lettera al prefetto, disperato appello dei vertici del Dipartimento di Emergenza dell'ospedale, il servizio è a rischio. E l'ultima pagina, sempre da Senigallia, impianto sportivo Ponte Rosso, c'è Zambrotta, il campione di calcio, Gianluca Zambrotta, lo vedete qua, eccolo, secondo la sinistra, ieri in città per questo impianto sportivo che serve per i campi estivi per bambini. E quindi l'ex campione del mondo con alcuni soci è pronto con un progetto di rilancio. L'informazione in diretta finisce qui. Grazie per averci seguito. Torniamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci.